Salve a tutti e benvenuti a questo secondo video recensione dove andremo a analizzare un'altra esca artificiale, nello specifico per quel che riguarda la tecnica del light spinning. L'esca in cui andremo a parlare oggi è il Max Wrap della Rapala nella versione da 70 mm, un'esca di 5 grammi di peso da azione suspending. Cominciamo subito col dire che questa esca purtroppo è uscita fuori produzione circa un paio di anni fa e che quindi sarà possibile solamente rinvenire presso qualche negozio che ne possegga ancora qualche esemplare o direttamente online. È un'esca molto sottovalutata per la tecnica del light spinning ma che è indubbia indiscussa efficacia per questa tecnica. Io fin dal primissimi utilizzi con questa esca ho avuto da subito grandi soddisfazioni, non solo in termini di quantità di catture ma anche di varietà delle stesse. Nello specifico questa esca è un vero e proprio mattatore di occhiate. Cioè è un'esca che qualunque, qualsiasi appassionato di light spinning a questo spider deve assolutamente possedere all'interno della sua cassettina. soprattutto con gli esemplari più grossi si è rivelato quindi più smaliziati ed infine si è rivelata veramente un'esca molto 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 catturante. Ma ovviamente non è catturante solo per le occhiate. Il sottoscritto ha catturato con quest'esca aguglie, sugarelli, caranghi di ogni tipo, ricciolette, rilasciate, spigole identici. Questi ultimi molto di più con la versione bianca, questa qui, che sto tenendo in mano ora. Davvero davvero efficace con spigole e denticiotti. Ma ovviamente anche con pelagici quali palamite, lampughe, tornetti alletterati, tombarelli. Diciamo che è un'esca che può catturare praticamente di tutto. Quest'esca per il suo peso esiguo, ripeto, soli 5 grammi, deve essere però utilizzata con trecce molto sottili, io direi nell'ordine dello 0,10 e con fluorcarbon che vadano dallo 0,20 nei casi proprio di acqua veramente trasparente in presenza di pesci molto smaliziati, diffidenti e così via, fino a arrivare, secondo me, a uno 0,28. Anche con lo 0,30 è possibile utilizzare quest'esca, però io consiglio di pescarci con terminali che vadano appunto dallo 0,20 allo 0,28. È bene sempre avere il vento alle spalle, perché quest'esca purtroppo, essendo così leggera, insomma, verrà veramente difficile pescarci contro vento. Di conseguenza io consiglio sempre di pescarci col vento o laterale o alle spalle. Poi, io consiglio anche di utilizzarla con una canna abbastanza lunga, io direi intorno ai 2,40 m perché quei magari 40 cm in più consentiranno all'esca di raggiungere anche qualche metro in più di distanza. Per quel che riguarda i pro e cons, andiamo subito ad analizzare i lati, gli aspetti positivi di quest'esca. Allora, prima di tutto la silhouette, che è veramente molto, molto affusolata, la livrea è la forma, ricordano la forma di un latterino, di una piccola acciuga, di una piccola sardina, quindi sono veramente già adescanti di per sé. Poi, la verniciatura, che è interna all'esca. Cioè, il materiale che vedete all'esterno è materiale plastico, penso di tratti di policarbonato. Ma la livrea è interna, è costituita da una lamina olografica a cui interno sono state incise al laser le scaglie di cui sono provvisti appunto i pesci. Quindi è un'esca veramente realistica, non so se si riesca a vedere in camera, però quando la prenderete in mano noterete questo particolare che tra l'altro è presente in tutti i max rap, dalla versione più piccola fino alla versione più grande. E poi, sicuramente, un altro grande punto di forza di quest'esca è la lanciabilità. Infatti quest'esca possiede all'interno del suo corpo un meccanismo denominato max cast, che poi è presente in tutti i max rap, che consiste in delle sferrette di tungsteno che si vanno spostando dalla testa alla coda, viceversa, a seconda dell'inclinazione, quindi che si lancia o si recuperi, che consentono all'esca di ottenere delle gitate veramente molto molto buone. Questa è un'esca che nonostante il suo peso molto esigo si lancia veramente veramente bene, proprio grazie a questo meccanismo interno denominato appunto max cast. Veniamo ora a quelli che sono i lati negativi di quest'esca. Allora, sicuramente una nota dolente è data dalle ancorette. Queste ancorette che sono, se non ricordo male, della VNC, sono delle ancorette molto molto affilate, molto valide a questo punto di vista, perché sono molto affilate, però tendono ad originirsi molto presto e secondo me sono un po' deboli per specie particolarmente combattive come la palamita, il tonnetto, il serro, la lampuga, quindi secondo me vanno sostituite. Con pesci di piccola media taglia secondo me vanno benissimo, però poi sarete comunque costretti a cambiarle perché comunque si andranno ad arrugginire, si spunteranno. Però una cosa che ho notato è che sono molto affilate e la loro affilatura tende a comunque a rimanere abbastanza buona nel tempo. L'unica cosa appunto, ripeto, secondo me sono un po' delicate. Quindi se volete andare a insediare pesci in una certa taglia, vi consiglio di cambiarle. E poi c'è un altro lato negativo che è quello dell'opacizzazione della livrea. Mi prendo un'esca con la quale io ormai pesco da un paio d'anni. Vedete? Quest'esca non è che non funzioni, continua perfettamente a funzionare, però vedete che se la compariamo questa con questa, questa è nuova, non è praticamente mai stata utilizzata. Con questa qui vedete che la livrea è opacizzata. Quindi sicuramente la livrea non si andrà a distruggere, però capite bene che comunque andrà a opacizzarsi. Bene, siamo arrivati alla fine di questo secondo video recensione. Se questo video vi è piaciuto mi raccomando mettete un bel like e non dipendicate di iscrivervi al mio canale perché ci sono ancora tantissime novità che vedremo molto presto. Per cui vi auguro una buona giornata e al prossimo video!